In questo video oggi faremo un mega pack opening perché ci sono ieri, ieri, quando Italo non registra, non registra, ieri avevo pure spacchettato per i fatti miei e ho trovato ragazzi, ho trovato questo signore. Iscrivetevi al canale di QIC, Italo Gamer 1, lasciate un follower di supporto, ragazzi apriamo questo primo pacchetto, lo chiamo Roberto Farelli, e lui non è lui, certo che è lui, questi sono i mega pack, mamma mia vediamo se ci fa la mossa, vediamo che ci dà, vediamo se ci la dà, ci la dà, chi ci dà, ci dà, ci dà, portiere Scesni, che me ne faccio di Scesni, salutiamo il mitico Valex Rossi, Valentino Rossi, il nostro amico, passate pure dal suo canale, mamma mia, mamma mia, la ricca che me sto a rovinare oggi per FIFA, me sto a rovinare per FIFA, ecco qua tutti questi giocatori, guarda qua che giocatori, questi non mi servono a niente, quindi scartiamo, adesso andiamo subito con un altro bel pacchetto ragazzi, amici miei, dacci uno di questi colorati, guardate, guardate come ci lampeggia bene, ci fa un lampo buono, non ci fa buono, che ci dà, ci dà Brasile, Cdc, Casimino, 88, buono per fare il baggio, io farò pure il baggio, mi mancano solo gli 87 e gli 88 ragazzi, sì l'ho visto, ho visto le visualizzazioni, mannaggia a te Glicco, mi servivano a me quelle visualizzazioni per prenderà la monetizzazione, comunque, quando le chiacchiere passate, passate da Valex, guardate, vediamo un po', vediamo un po', io mi giro così, mi giro, faccio il ballo, vediamo un po' se c'ha da, 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 c'ha da c'ha da, c'ha da e c'ha da dampeggia a okay, c'ha da, eh perché non lo faccio pure io? E perché non lo faccio? Eheh, non lo faccio, non lo faccio, che voi come ben sapete, io, pure sono, lavoro questa mattina sono arrivati dai 5 e mezza di mattina a casa e non c'ho tempo di giocare a FUTCHAMPIONS e lui non è lui, certo che questo lo faccio per voi, per voi vediamo un po' se ce fa sta mossa, ce la fa la mossa, ce la fa? Vediamo un po', dacci uno blu, manco quello, manco la gioia, ma che c'è da? Chi è questo? DC, e proprio tu, pisellone, g, ne, mannaggia di, è il pisellone, è il pisellone ragazzi, è il ruffie ed è bene l'altra volta, con frontaprezzo, 5 mila manco su un cagano, mamma mia, no ma quello lì mi serve, mi serve per fare, per completare poi il baggio, sull'adri, sull'adri, guardate, guardate, sull'adri, dammela, dammela, manco, manco a pagarla, mortacci su un altro if, Francia Portieri, chi è questo? Gurtnera, che, mamma mia, sull'adri, due addirittura, ragazzi, due if, questa è una volta, una volta, nel vecchio FIFA è uno sabbili da questi, 12 giovedori, questi, 30 oggetti tutti là, andiamo con questi, vai, vediamo se scuniamo di qua ragazzi, a chi, chi faccia sta mossa, oh, vediamo se ce fa la pappata, non ce la fa, non ce la fa, e c'è da Germania, DC, Urmels, ce lo, ce lo doppione, buono, buoni per baggio questi, buoni per baggio, buoni per baggio, questi, vediamo un po', e faccia sto blu, sto blu, sto metallizzato, un altro if, chi è questo, un'altra volta, un'altra volta, io li ce l'ho trovato pure, mannaggia a te, confronto a prezzo, diciamo, un po', mettiamo, mettiamo alto questo, ma che mi serve, dai, dammi qualcosa, dammi qualcosa di buono, ma non vuole altro, mamma mia, mamma mia, tu è accosta, mortaggi tua, ha musculato, mamma mia, mi ha dato, mi ha dato, dopo i corrieri, mamma mia, stiamo a pregare, stiamo a pregare, ma ha dato, ma ha dato, ma ha dato, e mannaggia, ma ha dato, ma ha dato, ma ha dato, ma ha dato, a nicchia, a cicoria, a cicoria, ma ha dato, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che cosa bella, mamma mia, a cicoria, ha musculato, ha musculato, questo non lo tengo, ne prendo pure il culibali, centrocampista, con baggio, Rijkaard, Okoja, Campbell, Manolas, non squadroni, non squadroni, pesce fuori, mamma mia, mamma mia, chicchi, spacco il comando, non spacco il comando, ti spacco, ti spacco, spacco il comando, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi, mamma mia, vai chicchi, mamma mia, al piatto, proprio che arriva mia moglie, che devo andare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, oh chicchi, oh, ha musculato, ha musculato, condividete, 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 mamma mia, mamma mia, che li scarto questi, li scarto, li scarto, li scarto, ho a colibali, dai, non guardo, non guardo, mamma mia, non guardo, fai un'altra mossa, fammela, fammela, Roberto e fermino, dai, 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 ha chicchi, ha musculato, ha musculato alla grande, mamma mia, mamma mia, ha musculato, mamma mia, ragazzi, mamma mia, mi ha dato, mi ha dato, mamma mia, chicchi, a chicchi, a chicchi, a chicchi, questo video termina qua, quindi, noi ci vedremo, stasera, su Twitch, passate dal canale di Twitch, Italo, Italo Gamer, uno, lasciate un follow, condividete, abbiamo scolato, abbiamo scolato, abbiamo trovato il nostro giocatore del compleanno, come sempre, io vi dico sempre, ciao, miau, bau, belli, a chicchi, ciao, ciao, un bacio, vi voglio bene, vi amo, ciao,